Vi spiego come è rappresentato dal punto di vista comportamentale il verificarsi di un trend di borsa. Fase numero 1, siamo in un momento di consolidamento delle quotazioni, non si sale, non si scende. Fase numero 2, incertezza, qui i giornali cominciano a dire si sale in borsa, no, si scende in borsa. Fase numero 3, breakout rialzista, qui ci sono dei grandi operatori di borsa, solitamente banchi d'affari, che dicono, no, un momento, aspetta, ci sono le condizioni per entrare sul mercato e comprano pesantemente. Fase numero 3, e muovono il mercato, il mercato comincia a fare più 3, più 4, più 5. Accumuli istituzionali, qui altri piccoli operatori. E qui arrivo io, sono in palestra a Milano. Esatto, lei è in palestra, sta facendo, oh sì, oh sì. Prendo il telefono. No, no, non è ancora il momento, lei sta là che sta guardando Baywatch mentre sta facendo palestra. Allora, fase numero 4, entrano altri piccoli operatori istituzionali, società fiduciari e così via, e rilanciano ancora l'andamento delle quotazioni. Fase numero 5, accumulo dei riteni. E io sono sempre in palestra, che? No, è lei, è sempre lei in palestra, oh sì, oh sì. E in quel momento, lei sente parlare il suo compagno, quando andate a farvi la doccia assieme o dentro la sauna, sente, ciao, ah che mico, ho comprato a Sioni. E ho fatto il 10%, ho fatto il più 20%. Allora, anche lei che lo fa. Telefonino. E il giorno dopo, tu in casa, chiama il telefonino, ciao, compra tutto, cosa? Compra, compra, basta che ti compri. Fase numero 6, distribuzione. I istituzionali, cosa stanno facendo? Stanno vendendo a lei e tutti quelli che fanno palestra assieme a lei, che dicono compra, compra, oh sì, oh sì. Compra, compra. Allora, attenzione, è importante questo momento di mercato, perché loro scaricano, cioè loro vendono, perché ci siete voi. Scaricano, se la dice così. Scaricano, perché ci siete voi che state comprando. Quindi siamo noi in palestra che... Fase numero 7, incertezza, lei continua, oh sì, compra, continua a comprare. In quel momento là, con il suo compagno di palestra, dice, ciao, ma qua in quotazioni non sai più come mai. Eh, ma non importa, ti continua a comprare, dai, pompa, uno, due, tre. Fase numero 8, breakout ribassista. Lei sempre che pompa, però poi qualcuno... Compra, compra, compra. E in quel momento là, che cosa succede? Nella fase numero 8, operatori istituzionali minoritari dicono, beh, un momento, qui non ci sono più le condizioni per stare dentro il mercato, perché i grandi hanno scaricato l'osso. Quindi andiamoci ne via anche noi. Abbandonano anche loro il mercato. E io intanto che... E lei comincia a dire, oh, porca miseria, ma avevo comprato 10, adesso me lo trovo a 8. Allora il suo amico di fianco dice, oh, bisogna calmerare, compra ancora, compra ancora. Lei alza il telefono e compra in fase 8. E comprando ancora, calmerando, gli istituzionali secondari riescono a scaricare. E per paura di perdere troppo, io, coscemo, continuo a comprare. Ah, esatto, continuo a comprare. Fase numero 9. I mercati non salgono più, cominciano pesantemente a scendere. Uscita dei retail. Cosa significa uscita dei retail? Anche lei, un po' disperato, comincia a dire, eh, porca miseria, ma qua il mercato non sale più. Il mercato, il mercato, il mercato, aveva ragione Gaber e comincia a dire, vendi, oppure in fase di profondo panic selling, 10, mentre là, in sauna, chiama il suo operatore di borsa e fa appunto come Gordon Ghecco. Vendi tutto. Ecco, non importa, basta che mi libri. Fase numero 11 e poi fase numero 12 consolidamento si riparte. Che cos'è successo? Beh, lei ha capito adesso perché il termometro si può mettere anche in un'altra parte. Allora, gli istituzionali sono entrati in area 3 in silenzio e hanno scaricato in area 6, 7 con grande offero di mercato. Gli istituzionali secondari, quindi società più piccole, piccoli fondi, sono entrati in area 4 e hanno scaricato in area 8. Il retail, cioè poi il popolo bue, ha comprato in area 5 e ha venduto in area 9, in area 10 o in casi estremi in 11. La borsa non crea ricchezza, semplicemente la trasferisce. O come diceva Sir John Templeton, il fondatore della famosa banca di gestione d'affari, la borsa serve per separare il denaro dagli illusi.